Che tutto in me sia amore. Mangiamo questo pane, adoriamo questo pane perché questo pane ci trasforma e allarga i nostri orizzonti in Gesù che è via, verità e vita. Non c'è né pane né vino senza morte. Sulla via della croce generazioni e generazioni di credenti hanno camminato, pregato, contemplato e pianto. Alziamo lo sguardo a colui che abbiamo trafitto perché dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Grazie a tutti. 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 iniziamo questo pellegrinaggio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.